Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Io ho bisogno di parlarvi e forse questo video avrei già dovuto pubblicarlo un paio di settimane fa, ma come al solito ci arrivo sempre tardi. Comunque cercherò di fare meno tagli possibile perché voglio parlarvi in maniera diretta. Forse l'avrete già notato seguendo il canale negli ultimi giorni, c'è qualcosa di nuovo. Ho iniziato a pubblicare dei video dedicati ai viaggi. Ragazzi, vi dico la verità, mi è sempre piaciuto viaggiare, ma ora ho una persona con cui posso condividere questa passione e posso viaggiare un po' in giro. Ovviamente non in giro per il mondo, non abbiamo soldi infiniti, ma ci piace viaggiare e realizzare dei piccoli contenuti per voi di questo tipo. Avete visto il video di Matera che ha già superato quasi le 20.000 visualizzazioni e un paio di giorni fa il video delle cascate, che è andato molto bene anche lui. Quindi grazie a tutti per averci supportato in questa nuova strada a deviazione che abbiamo deciso di prendere qui sul canale. Perché questo, amici, lo ripeto sempre, non è un canale tematico che vuole trattare solo videogiochi. Inizialmente portavo solo videogiochi qui su Addictus2Games, poi Addictus2Tech, e non vuole nemmeno essere un canale di sola tecnologia, ma vuole essere un canale che segue il mio percorso. La mia vita, la mia evoluzione deve essere il nostro canale, mio e vostro, dei miei iscritti. Perché grazie a voi che questo canale ha superato da poco le 80.000 iscrizioni, 80.000 amici e continua a crescere costantemente. E la mano mi fa davvero molto molto male. Quindi ragazzi, cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che ovviamente la tecnologia rimarrà il focus centrale di Addictus2Tech, ma dato che ora ho una persona, la mia fidanzata, con cui mi piace viaggiare, vi porterò, vi porteremo anche dei contenuti di questo tipo. Spero che vi possano interessare, anche perché dopo due anni di lockdown vari, coronavirus, eccetera, eccetera, iniziare a viaggiare nuovamente, ad aprire la mente in questo modo, è un tocca sana per tutti, amici. Quindi questo è tutto, non voglio aggiungere altro, spero di essere stato chiaro. Fatemi sapere voi cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto, come sempre, resto a vostra totale disposizione. E forse mi avete visto anche un po' cambiato ultimamente, potermelo sapere, amici. Dai, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addictus2Tech. Che no, non cambierà nome prossimamente, rimarrà Addictus2Tech. Alla prossima. Ciao amici miei. Ciao amici. Grazie a tutti.